vorrei sapere chi chiama a quest'ora, pronto? io sto benissimo, anzi stavo meglio prima che tu chiamassi che cosa può essere questo problema che è capitato a me che vi stavo votando l'anno con la ciasmissione, noi vi seguiamo della televisione, quindi la TGS vi seguiamo della tv, basta, stamattina la nuova televisione ha funzionato finora a un certo punto c'era una canzone, a un certo punto vi che non c'erano i parole c'era tututututututu e ci disse in mare sarà andina che non mi chia buona l'antenna prende benissimo, oggi siamo in onda regolarmente, quindi non è un problema di antenna la canzone ad un certo punto fa tututututututu, fa parte del testo Thomas e Matteo, che sono gli zero assoluto Matteo e Thomas, gli zero assoluto ah, gli dica che cantavano una vuota no, cantavano una vuota, cantano quando ancora, quando anche i video, ma lascia stare a chi è musicista, i nostri musicisti preferiti sono gli di cosa, come si chiama? chi, chi? eh, Gali, Calcutta, Lazza, chi si chiama? chi si fa con i ciliveri no, è vero chi è la rosa numero uno è a cosa, come si chiama? a chi si chiama come Anavi? a chi è la navi che affornavo a chi è la navi che affornavo? a chi è la navi? 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 se stai ascoltando questa trasmissione, vale, si ciò può verso allora, allora, massimo rispetto per tutti bravissimo Achille Lauro bravissimo Lazza che è arrivato secondo a Sanremo numero uno, vale mi piace molto anche Gali, guarda Gali è numero uno, a me piace Gali senza affezza a Pinnotto, ah senza affezza a Pinnotto, ma Gali è numero uno però, però vanno bene mi scrivi che non sono i Gali si spacco e ci rivedo e poi abbiamo inghiato a cui si, come venivano Gionatan, l'abbiamo detto già prima in trasmissione signora Rosa io cerco di mitigare quello che voi dite ma lei era a litigare con nodo signora Rosa, Pinnotti, lei era a litigare con nodo no, no litigare, mitigare con la M, con la M ah, con la M, che deve dire signora Rosa mitigare, io cerco, come dire, di fare da contraltare a quelle fesserie ah, levare l'acqua, va, levare l'acqua oh, bravo, levare l'acqua è perfetto oh, aspetta, scusa un momento sì oh, all'iccamastice, mitica sta bottiglia di Doco un bar, miticala, miticala no, c'entra le fanno levare l'acqua ma mitigare nel senso di levare l'acqua cioè nel senso di cercare di evitare fraintendimenti allora non lo posso usare a mitigare in questo senso in questo senso, va bene come noi ci donnamo stanotte, signora Rosa per chi sono mai fatto sentire ah, sì? mi deve scusare se sono stato assente e dove siete stati? ma ci guarda, ne mi conoscio all'estero all'estero, va bene io conoscevo Van Basten che era il giocatore del Milan, dell'Olanda no, signora Rosa, è Enzo Van Basten noi chiamavamo, io si chiamano solo Enzo giusto? poi noi ci ci missemo Enzo Van Basten perché? perché si è trasferito in Olanda io ci avrei a Amsterdam signora Rosa immagino già il fatto che sia ad Amsterdam ma lo sai per chi fa signora Rosa? non lo so non mi interessa non lo so venite a ciugare caro si venite a ciugare e ci è a ciugarlo signora Rosa avete fatto male no, non abbiamo fatto male ma ne partiamo con la macchina di allicamastici signora Rosa con 127 è la macchina antica io l'ho avuta la 127 si, come no blu scura non si poteva tagliare bellissima chieda di allicamastici è giallina invece avete presente che è 127 giallina chieda che fa riguacciati proprio bruttissimo basta signora Rosa niente allicamastici Pippo a braccio di ferro Luca e Andrea Gemelli de Pino di non brussatura all'ipica lì non buttamo me l'ho socaito poi c'era di non brussatura ci rischia poi comanga signora Rosa me l'ho socaito aspetta comanga non mi interessa ah Enzo Sesee lo buttamo magari Enzo Sesee si, si, si ci rischiamo Enzo ci vuoi bene si, si, si lo buttamo signora Rosa una cosa pazzesca che è successo dopo che facciamo un sacco di viaggio non so manco quando lo buttiamo signora Rosa ma mi ricordo manco io basta a un certo punto c'era un cattello Amistad Amistad ah posto arriviamo siete arrivati noi ci dilamentiamo di Catania signora Rosa che quando giove vuol dire non si può camminare che c'è di succhini di acqua Amistad mi tutta china di acqua signora Rosa ma come non si affrontano ma Amsterdam è come Venezia ci sono tutti i canali ma che c'è non è che acqua ma quali i canali signora Rosa i canali non ti ho detto su c'era tutta l'acqua Jonathan ma puoi usare la macchina calmo i canali sono sul tetto va bene ad Amsterdam non è che si inondano le strade di acqua come succede a Catania o in altre città siciliane perché proprio Amsterdam è famosa per i suoi canali i suoi corsi d'acqua ah canali nel senso dei canali di acqua come Venezia è come Venezia infatti si definisce la Venezia del nord Europa e tu era ci ho apponcippato male era ci ho apponcippato male vissi in mare ma come vuoi essere che ci sono semplici di bagnati di acqua e non giovi mai infatti ma vuoi essere che chiudono stanotte non vuoi essere è bellissimo fare il giro col battello ad Amsterdam dove io sono stato qualche tempo fa è bellissimo ah c'è stato lei si come no ma non è vero ma io non fumo Giuseppe ma l'Inca Masi c'è De Noce in mare avevi ragione ma io perché l'ho detto l'Inca Masi c'è lavoretto signor La Rosa allora l'Inca Masi appena vista la prima volta mi chissi in mare fidati chissi De Noce si viri in mare si viri come una uca mare senta senti Jonathan io sono andato ad Amsterdam con mia moglie abbiamo fatto una vacanza città la moglie si appunto lo so lo so che ti viene da ridere ma io sono ma uno va mi si botta il suo moglie signor La Rosa non solo così un momento all'Inca Masi non è De Noce ma è Giopo Vadoffo ma come si buttava il suo moglie eh non solo a mia moglie è una coppia di amici sposati magari quindi un mio amico e sua moglie niente quindi sono scassi signor La Rosa ciavozzurri la cosa lei è senza speranza di creare non si può ripubigliare e quindi lei si no ha amici da Monica se si vanno a spaccare i suoi cittadini vuol dire ci sono tutte le prostitute messe in vetrina ma non si fanno queste cose dai ma lei c'è chi con un amico con Noaci va bene con Noaci vuole avere con Noaci no con voi non ci vengono con voi non vado neanche in Vietterne a Catania quando ci vuole avere neanche in Vieruggiero VII a Palermo organizziamo io vengo a pigliare va bene signor La Rosa ci presento Enzo Van Basten è numero uno lei vi rimosci lei l'ha visto mai i mosci no i mosci i mosci i mosci signor i mosci come si può dire non mi vengono i mostri ah i mostri i mosci ah i mosci i mosci i mosci ah sì perché si si moscio si moscio si moscio signor La Rosa non si parla di Catanese no io so parlare Catanese io non voglio parlare con te ma uno che si no ami se da me questo bucchieri signor La Rosa ci vesti l'opinione io ci vado con mia moglie perché non voglio non voglio tentazioni voglio stare sereno queste cose non si fanno ovunque la devo salutare signor La Rosa stai salutando ciao Jonathan non sa che cosa si non sa che cosa si perde signor La Rosa non sa che cosa si perde a non perdersi mi creda la saluto arrivederci ciao 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 ciao